Quello che lega due gemelli è un rapporto specialissimo, che soltanto i gemelli possono conoscere veramente. E tu, nonostante tua sorella sia vissuta soltanto sette mesi, però questa presenza, questo cordone ombelicale, ancora lo senti molto forte nella tua vita, è così? Sì, soprattutto lo sento nei momenti in cui magari mi sento sola, nei momenti in cui proprio tocco mentalmente il fondo, che mi sento proprio totalmente debole, è come se cercassi forza in lei. E la trovi questa forza? Sì, sì, a livello mentale tantissimo, mi è successo magari anche in un periodo mio un po' buio, dove comunque ho sofferto tanto la solitudine. E la senti vi vicino? Sì, scusa faccio fatica a parlare. Sto toccando dei discorsi che io penso, ho fatto fatica a toccare anche in famiglia, con i miei genitori. So che non è facile. E parlarne qui per me tanto, ci ho messo anche un po', ti dico la verità. Grazie a tutti.